Li avevamo incontrati nel corso di un'intervista online. I tre seminaristi che domenica sono stati ufficialmente ammessi tra i candidati al presbiterato, Andrea Aureli, Giacomo Campanella e Riccardo Ventriglia. L'occasione era la messa per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni presieduta dal cardinale Arcivescovo. Chiamati per nome dal rettore del seminario diocesano, Monsignor Roberto Macciantelli, i tre giovani sono stati interrogati dal vescovo sulla loro volontà di proseguire liberamente il cammino che hanno intrapreso e che li porterà a suo tempo a diventare prima diaconi e poi sacerdoti. Oggi Andrea, Giacomo e Riccardo presentano la loro candidatura per diventare presbiteri. Fratelli miei, figli miei, La preghiera sia sempre il vostro centro perché è ascoltare la voce del pastore quella che ci fa sentire parte del suo gregge e che ci aiuta a riconoscere la sua voce e ad essere noi voce di questo pastore se non la ascoltiamo non la sappiamo nemmeno parlare. Nella quarta domenica di Pasqua la Chiesa prega per tutti i giovani perché ciascuno, secondo la propria vocazione, abbia la gioia di corrispondere al progetto di Dio sulla sua vita. Oggi davvero è la giornata delle vocazioni giustamente al plurale perché è quello che il Signore chiede ad ognuno di noi e che in realtà coincide con quello che cerchiamo nel nostro profondo che abbiamo dentro. Il Signore non ci chiede quello che noi non siamo anzi ci chiede di essere noi stessi ma di esserlo per davvero e di esserlo per gli altri che è l'unico modo per essere davvero se stessi. Qualcuno si sorprende che una persona scelga e sia contenta. Sceglie ed è felice e i nostri tre qui mi sembrano contenti sceglie ed è felice perché ha capito e ha trovato quello che vuole che lo definisce poi non smettiamo di comprenderlo perché l'amore è lo stesso e si trasforma non si perde mai anche quando facciamo fatica a trovarlo perché sappiamo che non è una sensazione che passa ma è il sentimento che è scritto nella nostra anima e niente ci può separare dall'amore di Cristo. Grazie! Grazie! Grazie.